Proprio ieri il Senato ha fatto slittare a lunedì la discussione sull'acquisto dei 90 caccia bombardieri F-35, un dibattito che si sta sviluppando in Parlamento aspro tra favorevoli e contrari. Ma c'è un paese, un paesino in provincia di Novara, dove non vogliono sentir parlare né di pacifismo né di stop all'acquisto degli F-35. Perché? Perché è il paese dove si assemblano le ali degli F-35 e qui appunto i posti di lavoro sono considerati più importanti di qualsiasi dibattito, anche se si stanno formando già i gruppi no F-35. Se non li facciamo noi, li fanno a Novara o li fanno in Meridione, li fanno da un'altra parte. Allora, siccome noi a Cameri siamo senza fabbriche, senza posti di lavoro, benvengano che gli F-35. Se non li facciamo noi, li fanno un altro Stato. Se lo chiedi agli abitanti di Cameri, non c'è dubbio. Altro che pacifisti, altro che spreco di denaro pubblico. L'aeronautica italiana deve acquistare i cacciabombardieri americani, almeno 90 nei prossimi 15 anni, costruiti dalla multinazionale Lockheed Martin con il contributo di Finmeccanica, attraverso la controllata Alenia. Perché è proprio a Cameri, 10.000 abitanti in provincia di Novara, che le ali vengono assemblate. Nella cittadina troviamo soprattutto anziani. I giovani stanno dove c'è lavoro e qui parecchie aziende hanno chiuso i battenti. La Boscia è chiuso, Ricchetta è chiuso, Landini è chiuso. Il sindaco di Cameri, eletto nel 2009, ci accoglie in una stanza che ha fatto pitturare di fresco, color cielo e tappezzata di foto di cacciabombardieri. L'F35, sia per l'immagine italiana e per le opere fatte, sa da fare. Uno stabilimento che è costato 800 milioni di euro, è nato, non esisteva nulla prima e quindi oggi tornare indietro rispetto degli accordi diventa un grosso problema. Risulterebbe essere una cattedrale nel deserto. E allora vediamolo questo stabilimento, nel perimetro dell'aeroporto militare. Aeronautica e Alenia ci permettono di entrare e filmare. Il centro di produzione è enorme, 500 chilometri quadrati, 120, solo di capannoni. Fra una cosa e l'altra, secondo il ministro della difesa Mario Mauro, l'F35 dovrebbe dare lavoro a 10.000 persone in tutta Italia. Ma ciò che colpisce negli sconfinati spazi dello stabilimento è il vuoto. Dovrebbero sfornare 7 paia di ali al mese, ma al momento c'è l'occorrente solo per assemblarne due. Il resto dei macchinari ancora non c'è, sono pronti solo gli alloggiamenti. Eppure la catena di montaggio dovrebbe mettersi in moto fra meno di una settimana. Per l'F35, per il programma F35, noi abbiamo già concluso le fasi di sviluppo. Quelle le abbiamo già pagate e non si può uscire. Ovviamente adesso c'è la fase di produzione, ma l'unico lotto di produzione per cui ci siamo già impegnati definitivamente è il numero 6, che equivale a tre aerei. Dall'otto-sette in poi abbiamo solo iniziato ad acquistare dei pezzi. Analizzando proprio i documenti ufficiali abbiamo scoperto che non ci sono finali proprio perché non ci sono contratti definitivi sull'acquisto di tutti i caccia. I contratti vanno fatti anno per anno e quindi li possiamo ancora fermare. Anche i lavoratori al momento sono pochini, meno di 200. Certo, bisogna contare anche l'indotto. E allora chiediamo aiuto al coordinatore FIOM per il gruppo Finmeccanica, Massimo Masat. Anche contando l'indotto, spiega, i posti di lavoro saranno più o meno un migliaio. Numeri dieci volte inferiori a quelli circolati negli ultimi mesi. Eppure la FIOM apparentemente non avrebbe interesse a sparare cifre al ribasso. La maggior parte degli operai a Lenia che si vedono a Cameri, fra l'altro, è stata trasferita da un altro stabilimento, quello di Torino-Caselle. Là costruivano un altro aereo, l'Eurofighter, figlio di un progetto comune dell'industria della difesa europea, che in Italia è stato interrotto. Fra patto atlantico e europeisti, fondamentalisti del sì e del no, la terza via è suggerita dal Partito dei Militari, organizzazione per i diritti delle forze armate, sostenuta dai radicali. Sono stati loro, durante il governo Monti, a proporre di tagliare il numero degli aerei, come è stato fatto, da 131 agli attuali 90. Adesso suggeriscono un altro compromesso, interrompere il programma di acquisti di F-35 per almeno tre anni, per consentire al Paese di superare gli ostacoli finanziari della crisi. E poi si vedrà. Sappiamo che il Partito dei Militari ha proposto la sospensione di tre anni del programma. Diciamo che l'ipotesi della sospensione è il primo passo minimo, perché quantomeno metterebbe tutti di fronte alle proprie responsabilità e darebbe a tutti la possibilità di accedere ai dati reali sul programma. Un'ipotesi che comincia a farsi strada anche fra le file del Partito Democratico. In Senato la discussione e il voto sono previsti per lunedì.